Sassari, ex hotel Turritania, continuano i lavori. Servizio di Emanuele Floris. Un totem tutto sassarese, l'ex hotel Turritania. Costruito negli anni 40 del secolo scorso dell'architetto sassarese Vico Mossa, la struttura è divenuta nel tempo un blocco vuoto, preda di presenze abusive, in suo cielo progressivo e malcelato da una tartaruga dipinta sulla facciata, il cui degrado era apparso tangibile nel sopralluogo dello scorso anno, nella faticenza generale. Il progetto comunale, da 6 milioni di euro risarente al 2022, conta, grazie ai fondi del PINQUA, di ricalificare l'aria e destinarla al social housing, inserendovi, tra gli altri elementi, dei moduli fotovoltaici e degli spazi verdi. La ditta incaricata procede a pieno ritmo e deve concludere i lavori nel 2026. Si chiude così Naccarell, divenuta annusa tra chi voleva la rigenerazione urbana e chi l'abbattimento, senza tenere conto che la seconda ipotesi per il vincolo della superintendenza, è impraticabile. L'ex hotel Turitania rimarrà comunque in porta a Sant'Antonio, a fare da quinta la stazione ferroviaria e a fungere da eterno monito contro lo sviluppo in direzione del mare, appuntamento che Sassari fallisce da decenni e ci si augura possa intraprendere con l'avvento della città metropolitana, movimento che, ammesso si compie, impiegherà decenni per avverarsi.